Il comune di Buonabitacolo, in collaborazione con la casa di produzione Data Lab, partecipa alla nuova web serie BlaBlaCarRoadMovie. La partnership del comune guidato dal sindaco Elie Rinaldi ha reso possibile la brandizzazione dell'unotto posteriore dell'autovettura, protagonista della web serie. Il format BlaBlaCarRoadMovie viaggerà sulle strade di tutta Italia raggiungendo, con le 20 puntate on air da settembre, oltre 2 milioni di bacheche Facebook. Sull'unotto posteriore dell'auto ci sarà un messaggio pubblicitario che invita a visitare il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Dalburni, e in particolare modo il nostro territorio che per la sua bellezza, storia e tradizione merita di essere conosciuto anche al di fuori dei suoi confini. Verranno raccontate le storie dei viaggiatori con l'obiettivo di mettere in luce in modo spontaneo i momenti più divertenti e significativi di questi viaggi condivisi in giro per l'Italia. Una serie creativa e inedita dove i protagonisti saranno persone comuni che racconteranno le loro storie, componendo così una fotografia realistica del nostro paese. Un'interessante iniziativa di marketing, sicuramente al passo con i tempi, un modo innovativo per far conoscere il nostro territorio e le sue bellezze culturali ed ambientali.